La sindaca di Battipaglia Cecilia Francese ha reso noto che è stato accertato dai vertici dell'ex stir un preciso calendario per il conferimento dei rifiuti da smaltire, evitando quindi file disagi per la città di Battipaglia. Si scongiura pertanto l'emergenza dei rifiuti, ma occorre adesso che ci siano tempi certi per la riparazione del guasto all'impianto di Acerra, che ha provocato una protesta vemente di tantissimi sindaci costretti a fare i conti con disagi notevoli per il conferimento dei rifiuti a singhiozzo in tutti gli stir, compreso quello di Battipaglia. Hanno accettato già ieri un nostro piano di frequenza con quanti camion il lunedì, il martedì, il giovedì. C'è stata una massima disponibilità e chiaro io voglio dire ai cittadini di Battipaglia soprattutto scusarci per il disagio, il disagio stavolta che non è attribuibile alla nostra società Alba, ma al fatto che se noi abbiamo i camion pieni di immondizia non possiamo ovviamente andare a fare altra raccolta e quindi l'umido sicuramente è garantito perché l'umido segue un'altra strada che non è quella dello stir, ma per quanto riguarda il multimateriale ovviamente abbiamo questa difficoltà e quindi speriamo che quando prima questo disagio venga meno, soprattutto anche perché ora ci apprestiamo ad affrontare l'estate, insomma per quando il multimateriale non è umido ma c'è sempre resa bene, c'è sempre qualcosa di misto di umido che poi anche lì nello stir viene selezionato, quindi speriamo che quanto prima si risolva la questione di Acerra.